E' stata la partita dove noi siamo andati subito in vantaggio, quindi è stata tra virgolette una situazione ideale per quello che poteva essere il nostro calcio, loro ci hanno aggrediti, non ti facevano giocare, ti davano la profondità, qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no. Nel secondo tempo, secondo me, gli abbiamo chiuso più spazi, siamo andati in parità numerica, dietro, secondo me abbiamo avuto una palla importante con Diop per raddoppiare, cosa che non abbiamo fatto e alla fine è venuto il loro gol, che è stata una, tra virgolette, una leggerezza difensiva, collettiva, perché con cinque giocatori schierati abbiamo preso una palla sopra da 35 metri, quindi è venuto questo gol e il pareggio che comunque ci può stare. Commento amaro, perché abbiamo buttato via due punti fondamentali, c'è tanta amarezza, tanta tristezza, tanta rabbia e dobbiamo subito resettare e cambiare l'atteggiamento del secondo tempo perché è stato proprio remissimo, è stato proprio brutto. Grazie a tutti.